ciao sono anna soave benvenuti sul mio canale youtube se è la prima volta che ci vediamo qui iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato su ogni nuovo contenuto inoltre voglio dirti che attivo il mio sito web www.anna soave.net dove potrai trovare la mia storia personale di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi riguardo il network marketing per chi non mi conosce sono anna soave ho 44 anni e da oltre quattro anni sono una professionista una networker di youtube ad oggi è la mia prima piattaforma dove tantissime persone mi chiedono informazioni sia per il prodotto e l'azienda con la quale collaboro faccio parte del programma youtube partner e oggi voglio darti tutte le novità per il mese di aprile così puoi iniziare anche tu o se sei già su questa piattaforma puoi aumentare il tuo engagement rafforzare il tuo personal brand ed essere ancora più produttivo sei pronta partiamo youtube in questo momento sta spingendo tantissimo sugli short che sono i video brevi che vanno da un minimo di 15 secondi fino a un massimo di 60 per il mese di aprile attenzione cosa ha fatto puoi commentare e rispondere ad un commento fatto sotto un tuo contenuto direttamente dallo short finora questa questa funzione è attiva per ios ma a breve arriverà anche per android praticamente funziona un po come tik tok quando una persona commenta un nostro contenuto noi possiamo rispondere direttamente con uno short alla persona arriverà direttamente nelle sue notifiche che abbiamo risposto al suo commento grazie ad un contenuto video e il nostro short di risposta resterà nel feed degli short quindi tutte le persone che vedranno il nostro contenuto vedranno anche la risposta a quel commento questo significa che youtube sta lavorando tantissimo non solamente per essere un contenitore di informazione ma per aiutarci anche a interagire in maniera diretta con le persone che ci chiedono informazioni o semplicemente fanno un commento tutte le persone che fanno parte del programma partner di youtube cioè ypp possono avere un riepilogo mensile questo è importantissimo perché ci permette di vedere quali i nostri contenuti sono più performanti e rafforzare ancora di più il nostro personal brand per entrare nel programma ypp bisogna avere mille iscritti al canale e questo c'è sempre e poi puoi scegliere due modalità o mille iscritti al canale e 4000 ore di visualizzazioni attive in 12 mesi derivate dai video lunghi quindi classici video normali oppure mille iscritti e 10 milioni di visualizzazioni dei nostri shorts negli ultimi 90 giorni si può scegliere quale modalità ma non possiamo fare un mix delle due quindi o mille iscritti con 4000 ore di visualizzazioni attive da video lunghi negli ultimi 12 mesi oppure mille iscritti e 10 milioni di visualizzazioni shorts negli ultimi 90 giorni sto già cosa stai pensando che le visualizzazioni degli shorts sono tantissime ma ti assicuro che girano molto più velocemente e quando vanno in virale è assolutamente fattibile arrivarci è attiva la sezione podcast che cos'è un podcast è una playlist e ogni video che noi editiamo nella sezione podcast corrisponde ad un episodio della nostra playlist questo ti permette di creare dei contenuti che magari vanno proprio ad episodi o a puntate mi viene in mente se vogliamo parlare di quali sono i cinque aspetti dieci aspetti di forza i punti di forza della nostra attività oppure se vogliamo far conoscere i nostri prodotti oppure se vogliamo fare un filone di video motivazionali ecco grazie alla sezione podcast possiamo raccogliere i nostri video in playlist e quindi le persone che entreranno nel nostro canale cliccandoci troveranno tutte le playlist che vogliamo con i video in sequenza questo è importantissimo ed è una sezione nuova e come tutte le novità youtube le spinge al massimo altra novità è la guida che ti insegna a come generare guadagno quindi come monetizzare grazie ai tuoi video e ai contenuti che pubblichi su youtube ti spiega come partecipare e come essere idoneo alla monetizzazione se non sai come fare commenta il video qui sotto perché ti scrivo in privato e ti spiego come entrare a far parte del programma di monetizzazione youtube di modo che questo social e questa piattaforma non diventi più solamente un modo per generare contenuti e per attrarre per farsi conoscere dal proprio pubblico e attrarre più persone possibili ma puoi anche da oggi monetizzare sia grazie ai video lunghi ma dal primo febbraio anche con il nuovo programma di monetizzazione anche dagli shorts vedete che youtube è in movimento ci sono sempre delle grandi novità quindi appena le so visto che faccio parte del programma youtube partner pubblico subito il contenuto per essere aggiornati metti like a questo video commenta qui sotto così ti scrivo in privato se vuoi avere qualche delucidazione in più se vuoi che approfondiamo questo argomento e soprattutto se vuoi iniziare a monetizzare grazie a questo social meraviglioso scrivimi perché ti aiuto a a capire come fare ciao